Il leggera conquista è il secondo successo di fila in trasferta, rifila 5 gol all'isola Caporizzuto, ultima della classe, dopo essere stato in svantaggio e guarda con ottimismo al proseguio del torneo. La zona playoff è distante, 9 punti, ma nel calcio mai dire mai. Ieri la formazione di Nicola Terranova ha in fretta dimenticato tutte le problematiche che hanno interessato negli ultimi giorni il club, con tanto di protesta dinanzi al comune per i mancati interventi allo stadio Presti. E in 90 minuti ha mostrato un bel gioco, confezionando una caterva di azioni da gol. Un bel gela che ha fatto contenti i numerosi tifosi biancazzurri a corsi in Calabria. E pensare che la gara si era messa male all'ottavo, infatti, un errore del portiere biondi ha permesso Pisano di segnare l'1-0 per i padroni di casa. Ma si è trattato solo di un fuoco di paglia. Da quel momento in poi, in campo, c'è stato solo il gela. Prima ci ha provato Alma e la sua conclusione non ha centrato la porta, poi ha cercato la via della rete anche Cosenza, ma non è stato fortunato. Lo stesso però si è rifatto al ventesimo, siglando l'1-1. Due minuti più tardi, Alma ha bissato. Bravissimo, subito dopo, il portiere di casa Macri a negare la gioia del terzo gol. Al trentaduesimo è stato Moy, alla sua seconda marcatura di fila, a triplicare. Il gela non si è fermato e solo per pochi centimetri non ha fatto poker. Nella ripresa, al decimo, Galli ha steso in area di rigore Gallon per il difensore Calabro, seconda munizione ed espulsione. Dal dischetto si è presentato lo stesso Gallon, che ha fatto 4-1. Al ventiduesimo, Alma, il migliore in campo, ha centrato il palo, ma si è rifatto subito dopo, siglando il 5-1. Un successo, dunque, fortemente evoluto dai biancazzurri. Domenica prossima, turno di riposo, si riprenderà il 18 marzo e il Presti andrà in scena il derby con la San Cataldese. E ci auguriamo che in questi giorni chi di competenza possa intervenire sullo stadio Presti, altrimenti saremmo punto e a capo.